è arrivato l'autunno facciamo un giro di tutte le offerte delle novità che sono arrivate da sassigarri pachira quatica 3 euro costava il doppio per chi vuole partire da una piantina piccola ma questa ha già un bel tronco sono molto radicate guardate strelizia nicolai costa 9 euro e 50 in offerta costa un 40 per cento in meno è una bella pianta alta 60 50 centimetri è molto ben fogliata questa è quella che tra i fiori brutti ma tra le foglie belle la pianta che va tenuta in casa la maggior parte d'italia questa invece è un po una novità botanica tazzami o culcas ravens guardate fra le foglie nuove completamente nere guardate che bella un steratai baby plant 33 90 guardate che bella che sono questa partita qua sono alte 30 40 centimetri sono veramente molto belle per gli amanti delle oia faccio vedere questa pianta qua è una oia imbricata guardate come sono belle sono molto particolari costano 39 euro costicchiano ma sono già molto ben sviluppate zigopetalum è un'orchidea un po più particolare diversa dall'altra molto facile da riferire costa 12 euro 50 solitamente costava il doppio ce n'è una trentina disponibili stefanotis o gessomino d'affartamento perché è una pianta rampicante che fa dei fiori profumati ma che sta in casa 7 euro 45 invece che 15 euro qua ne abbiamo ancora una trentina poi si esauriscono abbiamo anche un oia particolare l'oia crascio pettiolata costa 11,90 molto difficile da trovare molto facile da confondere con la calistrofila ma è diversa guardate com'è l'oia compatta grande questa va a 7 8 anni costa 29,90 molto lenta abbiamo l'oia sigitalis round leaf che è la sigitalis ma con la foglia molto più grande spessa abbiamo l'oia pot of gold in offerta 14,90 molto bella l'oia quinque nervia anche questa è una rarità rangsan anche questa in offerta as che è già grande l'oia croniana splash a 15,90 anche questo in offerta poi oltre alla marea di oia abbiamo anche per le amanti delle rarità botaniche il filodendo white princess a 8 euro 45 è una varietà di filodendo molto bello fa le foglie variegate bianche ma anche il gambo è molto bello potete vedere delle scherzature bianco rosa è molto bello il solito costa il doppio una taglia così oia macro fill albo marginata 19,90 sempre in offerta oia lineare basket 14 a 21 euro di solito costava 25 euro anche questa è molto bella guardate come lunga oia compatta baby plant a 4 euro 79 l'alocasa fraide a 9,90 per chi conosce l'alocase questa veramente ricercata costava fino a tre volte tanto è veramente bella e ha una foglia veramente vellutata la strelizia regina quella che vi ho fatto vedere prima era la strelizia nicolai quella che fa le foglie belle il fiore brutto questa è quella che invece rimane compatta come foglie ma fa appunto il fiore bello molto ornamentale e costa 9 euro di solito costa una quindicina di euro alocasia dragon scale 9,90 invece che 19,90 alocasia silver dragon anche queste abbiamo una quarantina poi diciamo che sono finite la producono in italia costa 9,70 euro è già bella grande ora date anche tanti butti sotto nuovi limone maier ha tanti frutti verdi al momento stanno virando al giallo come potete vedere verso novembre dicembre saranno tutti gialli è fatto a piramide in Italia così costa 23,90 euro di solito costa 39 euro a piramide fa dei fiori profumatissimi esattamente come la zagara ma è molto persistente al freddo esiste anche qualche breve gelatina a zero gradi non andiamo oltre quindi se volete azzardarvi specialmente nelle zone climamite tenerlo sempre fuori questa è una varietà che può fare per voi fra tutti i limoni questa è la varietà più resistente al freddo che ci sia i frutti sono più piccoli sono più piccoli ma sono veramente molto più dolci che il limone normale quindi se vi piace qualcosa di dolce sembra quasi un lime più che un limone qualcosa di meno acido questa è la pianta che fa per voi per chiudere una varietà di tradescanza che a me piace moltissimo è la tradescanza pink paradise vedete che bel colore che ha è un ibrido che costava molto costava 12 euro un vaso così c'è anche baby planta 5 euro 4,90 euro questa è in offerta 8 euro invece che 12 euro ne abbiamo ancora una trentina di piante e poi si esaurisce tutte queste novità tutte queste varietà tutte queste piante in offerta le trovate da Sassi Garden siamo fra Parma e Reggio Emilia sulla Vemiglia oppure potete ordinarle online sul sito sassigarden.com e spediamo in tutta Italia